Messina, sabato mattina. A dispetto della giornata quasi estiva, pochi messinesi in giro. Una città spopolata, solo qualche auto e poca la gente in strada. Nonostante le aperture previste per la fase 2, molta la cautela da parte dei cittadini. Deserta la via Ghibellina, pochi in piazza Cairoli, un po' di traffico veicolare su via Garibaldi che risente peraltro della cancellazione della stagione croceristica. Bara aperti, ma ancora pochissimi negozi hanno ripreso un'attività normale, tra cui le librerie che al momento effettuano mezzo orario. Scarsa l'affluenza di questi giorni, guanti, mascherine, percorsi differenziati e distanza di sicurezza non incoraggiano i consumatori che, complice di inevitabile crisi economica, si vedono come si immagina costretti una più salutare e meno dispendiosa corsetta. Cautela, responsabilità, distanziamento sociale saranno gli ingredienti che non possono mancare nei prossimi mesi.